Sì, però entrati c'è la città... Sì, però entrati c'è la città... Sì, però entrati c'è... Sì, però entrati c'è la città... Sì, però entrati c'è la città... Sì, però c'è la città... Sì, però entrati 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 c'è la città... Inoltre, però... Non c'è la città... E l'Italia... È un aubinare? È un aubinare? Un aubinare o un aubinare? Un aubinare o un aubinare? Un aubinare? Un aubinare? Un aubinare Un aubinare ma io ce l'ho però io mi ricordo noi andavamo a collegarsi al wifi si non l'avevamo non ce l'avevamo no no tu ce l'avevi ma non l'aveva voi ma non mi ricordo perché ma no ma perché poi non avevi wifi ma non aveva wifi perché quando eravamo nelle casettine c'è lì abbiamo fatto la presentazione dell'alberto poi avevamo ancora una carta un po' più che che non ci stavamo ci stavamo incantati e ci stavamo incantati con le carte di credito poi la figlia di bolsova anche il volante era bello non ci stavamo ma non ci stavamo un po' più che si stavamo incantati non ci stavamo ma non ci stavamo non ci stavamo è ci stavamo incantano non ci stavamo incantare non ci stavamo incantati non ci stavamo incantare non ci stavamo incantare le nostre au reporting Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.